E' veramente una bella serie, poi la san male che io adoro questo personaggio da decadi, da tanto tempo, infatti straconsiglio di vedere questa serie, atomica, come dico sempre, infatti non vedo l'ora di continuarla domani. Sì, ma ciao, amio, pure tu in corsivo, ma ciao, sono Dream, come stai bello, con cui ho tutto ok, e tu che mi racconti caro? Dunque, 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 quindi Sunman, da vedere, lo sottolineo, non mi piace il corsivo, neanche a me. Il parere personale fa proprio schifo, ecco, e sono d'accordo di con quello che hai scritto tu. Io detesto quella tizia che parla sempre in corsivo, quella là che sta facendo un super successo su TikTok, non mi piace proprio. Poi ognuno può fare quello che vuole, esattamente, ma ciao Leonardo, da quanto tempo che non ti vedevo in chat. Tutto bene, caro? Comunque sì, quella ragazza che parla perennemente in corsivo. No, proprio no, buon salvatte Leo, tutto bene, caro, hai esami, quindi non sei stato tanto presente, perché esami hai per adesso. Pensi tanto a studiare, ti capisco, perché sei stato rimandato. Ah, quindi hai tipo gli esami, ti recupero, mamma mia, pesanti, assolutamente pesanti. Lascia sta che io a settembre tornerò all'università e quindi sarà anche una bella merda per me, per la serie. Perfezione, auguri Dream, lo so che è il tuo compleanno, happy birthday caro, è ancora un compleanno, è come hai festeggiato oggi e devi fare tutti i compi dentro il 19, aiuto. Tipo, pesantissimo, c'è il 19, grazie, 13 giorni, brutale, come ieri si è svenuto e che è successo ieri. Mi dispiace comunque, caro. Grazie. Grazie.